si è aperto vado i romanzi 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 ma per non so se sono pazzo o sono l'ugere non faccio essere i primosi anche perché non dormi in due montagne sono a testa io non faccio adesso faccio ancora un uomo in vero i romanzi i 환i eserci e rim VR ma non кра bo in prof secondly io non Ki ha vado i romanzi ma non sono l'ingговo ma nonpalare non lo sordo ma vado i romanzi metri Sperta che tipo solita che mi fessi Música 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 Grazie a tutti Siamo appena arrivati a Malpensa direzione Los Angeles con il buon betto e domani Fede e Chiara ci raggiungono e sono molto stanco Ah buon anno a tutti Siamo saliti sull'aereo e iniziamo a poco partiamo